Un'azienda del Vallo di Diano, precisamente di San Pietro Altanagro, conquista il secondo posto a Parigi su mille aziende partecipanti al Fedegoni Top Award 2022. Un podio ottenuto grazie al connubio di tre elementi importanti per un prodotto, il prodotto stesso naturalmente, in particolare il suo scopo e le sue finalità, la qualità delle materie prime e soprattutto il design del packaging. Ebbene, l'azienda agricola Romaniello è riuscita a sbaragliare grazie al lavoro sinergico di altre due attività salernitane, lettera 7 di Cava dei Tirreni e grafiche lapelosa di Sala Consilina, ben 998 avversari. Agricola Romaniello è una bella realtà, come ce ne sono tante nel nostro Vallo di Diano, a conduzione familiare, dove un giovane e una giovane decidono di affiancare i propri familiari nelle antiche attività di famiglia o nelle passioni dei loro cari. Nel caso specifico di Agricola Romaniello, tutto è iniziato nel 2011 con Michele Romaniello, con l'aiuto del figlio Angelo e di tutta la famiglia. Michele insieme al figlio decide di dare inizio al sogno di una vita, lo studio, la coltivazione e la trasformazione di cereali e legumi locali. Ed i grani scelti e coltivati sono tutte specie del nostro territorio, tradizione che si fonde ad innovazione con una precisa scelta, quella di lavorare i terreni con l'antico metodo della rotazione delle culture, in modo da arricchire la terra di tutte le sostanze nutritive di cui le piante hanno bisogno, evitando concimi, prodotti chimici e di sintesi. Un bel progetto di autoproduzione delle sementi e di valorizzazione delle ricchezze del proprio territorio, arrivato ed apprezzato a Parigi e che porta il proprio nome, quello del Vallo di Diano, tra le realtà più all'avanguardia a livello internazionale.